ciao a tutti e benvenuti a questo unboxing di bicchieri sprint che ci è arrivato da giochi uniti e per nerdando for kids andiamo a vedere cosa contiene questa scatola cominciamo ad aprirla ok allora dentro abbiamo le istruzioni le istruzioni due fogli poi cosa c'è una campanella una campanella quattro bicchieri 4 gruppi da cinque bicchieri e le carte ecco qua apriamo le carte cosa c'è sulle carte c'è una casa un acuilone delle macchinini un gelato un cappello una vela dei palloncini dei fiori degli uccelli delle case che cosa hanno in comune tutte queste carte che sono che sono degli stessi colori di questi esatto e quindi secondo te com'è il gioco cubi non lo so non me lo immagino neanche macchinine un gioco delle tazze bandierine matite velati velili calzini puzzolenti funghi trenini uccellini cappotti e la torre come prima a casa va bene lo scopo del gioco sarà quello a gara di mettere in ordine i bicchierini in base al colore della carta d'accordo? ok questo è il contenuto della scatola non ci resta che provare a giocarlo e vedere com'è il gioco grazie